Viale auto da piazza Marcolinia Fano per un altro salotto buono della città. È stato presentato oggi in comune il progetto di fattibilità che nei prossimi mesi verrà condiviso con residenti e associazioni di categoria prima di procedere con quello esecutivo al quale seguirà l'appalto dei lavori. Ad illustrarlo il sindaco Seri, l'assessore Tonelli e l'architetto di vita. Ed eccola qua la piazza che cambia la veste dal prossimo anno. Niente più veicoli e parcheggi selvaggi per un'area destinata a verde pubblico. Quattro piante al massimo sedute di legno con schienale di pietra e una nuova fontana getto continuo composta da una vasca circolare nella quale è prevista la collocazione della stela realizzata a metà degli anni 50 dai docenti e studenti dell'Istituto d'Arte a Polloni. Si tratta dell'opera che fino a pochi anni fa era ai Giardini Amiani tolta per fare spazio a quella realizzata da Giuliano Vangi. Io sono convinto che fanno una grande potenzialità e una sfida che mi sono dato da sindaco è proprio quella di trasformarla e renderla la più bella città delle Marche. Adesso non voglio esagerare ma ha tutte le potenzialità per poterlo diventare. Per farlo bisogna che la riqualifichiamo e facciamo opere ambiziosi e belle. Piazza Marcolini è un altro spazio non grande ma amato dalla città e carino. Con questa riqualificazione ridiamo valore a tutto quello spazio che si lega ad un percorso complessivo perché in realtà è un puzzle di un progetto molto più ampio che riguarda tutta la città. L'architetto Elena Di Vita supportata nella progettazione da Pamela Lisotta e Teodizio Zacchiglia ha svelato le novità. Al centro dell'area di 350 metri quadrati ci sarà una pavimentazione in arenaria oltre al ghaino tipo Levocel o detto anche Sasso Italia che non soffre passaggio ripetuto. Ai lati due zone ombreggiate con piante che avranno una chioma sostenuta e a foglia caduca. Albiri attualmente presenti verranno abbattuti però c'è una relazione tecnica su questo per quale motivo? C'è una relazione tecnica della dottoressa Gabriella Malanga. Sono alberi che presentano radici molto superficiali e soprattutto molti sono caratterizzati dalla presenza di radici strozzanti che sono in pratica il suicidio della pianta. Troveremo soluzioni per cui se non ne piantiamo nove come pensiamo perché sono veramente troppe le andremo a piantare anche in altre zone del territorio. Quindi come numero di piante rimarrà inalterato. Tante ne togliamo e tante ne ripiantiamo. Cambia anche l'illuminazione. Verranno rimossi due lampioni al centro del parcheggio e verranno installate nuove luci alla base sia della fontana che delle panchine. Palazzo Marcolini verrà esaltato scenograficamente grazie a proiettori posti a cornicione. Lo stabile che ha ancora una destinazione scolastica al termine dei lavori a Palazzo Petrucci, sede dell'Istituto Olivetti, potrà tornare in uso del comune che ha l'intenzione di destinarlo ad esposizioni e altre attività culturali. Invece un noto imprenditore della città, proprietario di questo immobile, si sarebbe impegnato a provvedere alla sua ristrutturazione. Il costo dei lavori per piazza Marcolini è di 410 mila euro nell'importo, però sono compresi anche i nuovi arredi per piazza Costanzi, tra cui panchine, fioriere, stalli per biciclette e dissuasori. Trovate infine la soluzione per i posti auto dei residenti. Abbiamo scelto come soluzione alternativa piazza Marcolini l'estensione della ZTL di via Mura Sangallo, che non è la parte verso il bastione Sangallo, ma è quel piccolo tratto dove ci stanno una ventina di posti auto, 18-20 posti auto, da Palestra Venturini fino a Via Nolfi. Quella zona entrerà all'interno della ZTL e così tutti i possessori del permesso R di quella sottozona potranno andare a parcheggiare in maniera riservata in quell'area. Stiamo vagliando anche altre soluzioni che potrebbero agevolare i risedenti di tutta quella zona, dato che è una zona molto densamente popolata. Verranno recuperati anche i parcheggi per i disabili? Sì, certamente. Io ho una profonda attenzione per chi è diversamente abile, quindi garantiremo tutti gli stalli che erano in piazza Marcolini. Nelle immediate vicinanze ci saranno posti per disabili.